Alvia la stagione teatrale 2022 di Grosseto con nove spettacoli. Ricco, il programma di appuntamenti fino ad aprile è una rassegna dedicata al pubblico delle famiglie. Emilio Solfrizzi, Lea Gullotta, Massimo D'Apporto, Andrea Cosentino sono solo alcuni degli interpreti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Grosseto e la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Primo appuntamento e debutto della stagione, venerdì 4 febbraio dove al Teatro Moderno andrà in scena Emilio Solfrizzi con il suo malato immaginario di Molière. Finalmente potremo tornare in presenza, quindi la stagione teatrale che inizierà dal 4 febbraio prevederà sei spettacoli all'industria, tre al Teatro Moderno e in più ci saranno quattro spettacoli dedicati alle famiglie. Il Teatro Ragazzi che prima era con il coinvolgimento delle scuole oggi è dedicato alle famiglie e quindi ai ragazzi con i genitori la domenica pomeriggio, quindi nelle quattro appuntamenti anche qui di altissima qualità e naturalmente ritorniamo anche con gli abbonamenti. Sono spettacoli che riguardano gli spaccati di vita di teatro contemporaneo ma anche la riscoperta di classici in versione moderna. Ovviamente abbiamo pensato anche al Sipario Incantato e ai ragazzi, evitando quest'anno il coinvolgimento delle scuole per ovvi motivi di sicurezza, ma coinvolgendo comunque le famiglie e quindi ricostituire anche quei legami, quella voglia di tornare a teatro anche delle nuove generazioni. Grazie. Grazie.